Buongiorno a tutti quanti voi, buon sabato, sabato 8 giugno 2024. Bene, l'abbiamo più volte nominato questo sabato, sabato e domenica 8-9 giugno sono stati nominati più volte, perché? Perché ovviamente ci si reca alle urne per l'elezione, allora questo weekend decisamente particolare è arrivato. La prima volta che si vota nella giornata di sabato, si vota in tutta la Calabria per le europee, per il rinnovo appunto del Parlamento europeo. E in alcuni comuni, in 130 comuni calabresi, ovvero un terzo e circa dei comuni calabresi, 132 per l'esattezza, si vota anche per il rinnovo del Consiglio Comunale. Sono quattro i comuni al voto con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Parliamo di Vibo Valencia che è l'unico capologo di provincia. Montalto Fugo in provincia di Cosenza, Gioia d'Aura in provincia di Reggio Calabria e poi in provincia ancora di Cosenza Corigliano Rossano che è il centro più popoloso. In tre di questi quattro comuni è possibile un turno di ballottaggio. Perché in tre di questi quattro comuni? Perché la legge cosa prevede? Prevede che l'eventuale turno di ballottaggio è previsto solo nei comuni superiore ai 15 mila abitanti. Sarebbero in quattro, quindi anche Corigliano Rossano, ma a Corigliano Rossano saranno solo in due i candidati, ovvero Flavio Stasi, rappresentante del cosiddetto campo largo e Pasqualina Strafaccia del centro-destra. Trattandosi solamente di due candidati per questioni matematiche, uno dei due dovrà raggiungere per forza di cose il 50% più uno dei voti. Solamente in caso di estrema parità, cioè il numero di voti pari si andrebbe poi a un riconteggio delle schede ed eventualmente a un ballottaggio. Ma è ovviamente un'ipotesi molto remota, trattandosi di una popolazione superiore ai 70 mila abitanti, centro appunto più popoloso. Gli altri comuni sono tutti inferiore ai 15 mila abitanti, quindi si chiuderà ovviamente la questione nella giornata di lunedì, perché lo ricordiamo si vota oggi dalle 15 alle 23. Domani dalle 7 del mattino alle 23, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto in tutti i seggi, si inizia con lo spoglio delle schede europee per la votazione per il rinnovo del Parlamento europeo. E praticamente senza soluzione di continuità si prosegue fino all'ultima azione appunto di questo scrutinio. Ci si ferma poi e si riprende lunedì alle 14 per quanto concerne le operazioni di voto, anzi le operazioni di scrutinio delle elezioni comunali. Quindi subito, diciamo, nelle ore, nella notte più che altro, anzi nelle prime ore del mattino, noi riusciremo a sapere quelli che sono i risultati dell'europea, al di proiezione di sondaggi che verranno fuori già alle 11, che alcune volte sono vicine alla realtà, altre volte invece hanno dimostrato di essere molto lontani dalla realtà. I dati reali inizieranno appunto ad arrivare nelle prime ore del mattino e nelle prime ore del mattino arriveranno anche i nomi di eventuali eletti. Parliamo per esempio dei 32, mi pare, che sono candidati calabresi in seno al Parlamento europeo. E poi ci sarà, diciamo, questa pausa e dalle 14 si inizia invece con le elezioni comunali. E la partita, quindi poi a secondo della grandezza dei comuni, si chiuderà nel pomeriggio in serata, sempre laddove, eccezionamente quei tre comuni nei quali si potrebbe andare al ballottaggio, ovviamente non è certo. Questo un po' è quello che accadrà in questo fine settimana, per grandi linee. Ieri sera a mezzanotte è terminata la campagna elettorale, adesso siamo in un momento di silenzio elettorale, infatti non si parla di forze politiche, non si fa campagna elettorale, ma si parla di come andranno a essere gestite le operazioni di voto. Silenzio elettorale che solitamente era praticamente dedicato all'intera giornata di sabato, per poi iniziare praticamente a votare la domenica mattina. Questa volta si è optato per un silenzio elettorale molto più ridotto, praticamente 15 ore dalla mezzanotte, la notte appunto fra venerdì e sabato, fino alle ore 15. Ovviamente è vietato fare campagna elettorale, comunque anche fino alle 11 di domenica, fino alle 23 di domenica, fino al termine delle operazioni di voto. Ricordiamo che noi saremo in diretta, questo lo ricordiamo ovviamente, e da lunedì mattina alle 7 saremo qui e vi terremo compagnia, vi aggiorneremo, perché poi abbiamo deciso di essere in diretta con voi dalle 7 del mattino, perché inizieremo a darvi risultati, risultati reali, non proiezioni o magari risultati che alcune volte possono essere anche distanti dalla realtà, ma daremo dati reali, dati veri, e cercheremo di capire anche quelli che saranno gli eletti in Parlamento europeo. Poi le notizie arriveranno man mano nella giornata e ci avvicineremo allo spoglio delle elezioni comunali, che seguiremo e saremo in diretta appunto tutta la giornata qui su Tene, quindi seguiteci, lunedì mattina dalle 7 si parte, state con noi per essere aggiornati davvero su tutto il quadro, avremo collegamenti, avremo ospiti e avremo le notizie aggiornate dal web, daremo un'occhiata anche ai giornali che raccontano magari le fasi relative all'operazione di voto, insomma vi aggiorneremo su tutto davvero, lunedì mattina dalle ore 7. E detto questo, torniamo sui giornali, non prima aver salutato e ringraziato Luca Chito in regia, diamo un'occhiata ai giornali perché ovviamente anche sui giornali, qui siamo sulla Gazzetta del Sud, l'edizione di Cosenza, ma l'apertura è praticamente comune a tutte le edizioni, ecco in questo caso si apre con le elezioni, un po' l'introduzione appena fatta, si va un po' oltre, si parla praticamente di quella che sarà una scelta fra due modelli di Europa, 17 milioni di italiani al voto anche per le amministrative, questi i numeri perché, lo ricordiamo, non solo ci sono 130 comuni calabresi, ci sono 32 ma ce ne sono tanti in tutta Italia e oggi dalle 15 alle 23, domani 7.23, sistema proporzionale, soglia di sbarramento al 4%, cosa vuol dire soglia di sbarramento al 4%? Che per arrivare, è una forza politica, una lista, stiamo parlando ovviamente delle europee, una lista per essere, per arrivare a ottenere dei seggi in Parlamento europeo, deve ottenere il 4% su scala nazionale, cioè anche un candidato che può prendere magari molti voti, ma se la lista complessivamente non arriva al 4% a livello nazionale, non viene calcolata nella ripartizione dei seggi. Ricordiamo che nella circoscrizione sud, quella in cui è inserita la Calabria, insieme a Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo e Molise, nella circoscrizione sud verranno letti 18 euro deputati. Ecco, per arrivare appunto a questa ripartizione bisogna superare il 4% dei seggi, poi sistema proporzionale, quindi poi andremo pian piano a conoscere prima l'attribuzione dei seggi per ogni singola lista, che possono essere 2, 3, 1, 4, a secondo delle percentuali poi raggiunte, fra le forze politiche che hanno superato lo sbarramento, e poi ovviamente a secondo delle preferenze si va a scalare, chiaramente a secondo delle preferenze si vanno a vedere i candidati più votati all'interno della lista per l'attribuzione del seggio. Chiaramente poi sono considerazioni che si fanno in un secondo momento, quello relativo ai capolista, per esempio, Fratelli d'Italia presenta Giorgia Meloni, che molto probabilmente resterà ovviamente al suo posto in Italia, non andrà al Parlamento europeo, quindi bisogna calcolare praticamente il numero di seggi a partire dal secondo eletto, perché la prima eletta appunto rinuncerà, dando spazio a quello che teoricamente sarebbe il primo dei non eletti. E questo è insomma un po' un meccanismo che pian piano andremo a, che è abbastanza noto, che andremo a scoprire, andremo a raccontare appunto proprio lunedì mattina dalle sette in poi. Ci sono poi altre notizie, sempre su Gazzetta, che riguardano intanto il voto in Olanda, perché in Olanda si è già andati al voto. Il voto in Olanda sembra infatti mettere in dubbio l'avanzata della destra prevista dei sondaggi in Europa. L'Unione Europea è viva, l'ascesa e l'ultra destra non è scontata, dice il leader dell'alleanza olandese, Laburisti Verdi, Franz Timmermans, commentando la situazione appunto che vede l'area progressiva in vantaggio sull'ultra destra di Gert Wilders. Ma in Francia Le Pen continua a volare nei sondaggi, ieri al voto Irlanda e Repubblica Ceca. Ovviamente ogni paese ha una sua storia. Altre storie che arrivano, altre questioni che arrivano anche dal voto e dalla politica. Innanzitutto iniziamo dalle elezioni comunali in 132 centri, riflettori su Vibo, Gioia e Corigliano Rossano, aggiungerei anche Montalto, ecco anche a Montalto è previsto l'eventuale ballottaggio, Vinibo unico capologo di regione, così come abbiamo detto lo spoglio, da lunedì alle 14. E poi c'è la questione legata al portavoce di Lolo Brigida, una chat antisemita, scoppio è il caso Signorelli, dialoghi nel 2018-19 con Fabrizio Piscitelli, detto di abolic, estremista di destra e trafficante di droga, ucciso a Roma. Questa è una questione che comunque poco centra con il voto. Un'altra vicenda invece, della quale parleremo poi nel nostro telegiornale, legata in qualche modo al voto, arriva da Varapodio, centro in provincia di Reggio Calabria. Possiamo vedere delle immagini, ci sono delle immagini che sono state diffuse anche dai carabinieri, di un uomo che, perché dico centra il voto, lo vedremo fra poco, un uomo va a strappare dei manifesti elettorali, vedete, i manifesti elettorali vengono strappati da quest'uomo. È un breve video diffuso, come vedete, dai carabinieri di Reggio Calabria. Perché però va a strappare? Qualcuno ha pensato potesse esserci un motivo politico? No, ben altro. La storia è molto diversa. I manifesti politici avrebbero coperto i manifesti funebri di un suo amico e allora ha pensato bene di andarli a strappare. Insomma, una storia un po' particolare che in questo contesto elettorale fa anche riflettere, fa anche discutere. Ne parleremo nel corso del nostro telegiornale. Ovviamente abbiamo dato un'occhiata a quella che è l'apertura di Gazzetta del Sud. Ovviamente tutte e tre le edizioni di Gazzetta sono improntate su quello che è il voto. E allora diamo un'occhiata anche all'apertura del quotidiano, perché anche in questo caso si parla delle elezioni ormai alle porte. si inizia a votare praticamente fra un'ora e 18 minuti. Sono le 13.42, quindi fra un'ora e 18 minuti ci si può arrecare ai seggi. Anche perché gli appelli che sono stati rivolti da tutte le forze politiche e anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono quelle proprio di andare a votare al di là di partiti, perché l'astensionismo fa paura. È vero, nelle zone, nei comuni anzi, in cui si va al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale, molto spesso magari fanno da traino le elezioni comunali per quelle europee, ma il rischio dell'astensionismo c'è. Vedremo poi, ecco, e ci sarà importante anche riflettere poi sul numero di votanti, sul numero degli elettori, e ne parleremo appunto sicuramente da lunedì mattina. E dicevo, l'apertura del quotidiano dedicata ancora alla questione elettorale, urna aperte in 132 comuni calabresi, i partiti si sfidano nei centri più grandi, nel turno delle amministrative, occhi puntati su Vibo Valenze e Corigliano Rossano, al voto anche per l'Europea e il momento della conta, soprattutto nel centro-destra. Ovviamente si parla di quelle che possono essere le ripercussioni poi a livello politico. Ci sono altre notizie che andremo a scoprire più avanti, anche attraverso le pagine interne. Abbiamo visto le aperture dei quotidiani, sia di Gazzetta sia del Quotidiano del Sud, appunto relative al voto. A questo punto possiamo anche ritornare su Gazzetta del Sud. Abbiamo anche raccontato una storia per vedere quelle che sono le altre notizie che troviamo all'interno della prima pagina. Alcune di politica, altre di cronaca, lo sport. Allora andiamo a vedere, partiamo appunto dalla politica. verso la conta alle urne, Lega stoccate a Macron per colpire Tajani e Forza Italia e diciamo anche gli equilibri all'interno del centro-destra. Vedremo come andrà a finire. Poi i rilievi dei magistrati alle leggi calabresi. La Corte dei Conti mette in fila le incongruenze sui testi normativi analizzati. Nel Merino i provvedimenti sui contributi agli aeroporti, sanità e consorsi di bonifica. delucidazioni, puntualizzazioni e relazioni specifiche su aspetti poco chiari. La Corte dei Conti passa ai raggi X le leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2023 e nella relazione inviata a Palazzo Campanella mette in fila tutte le criticità appunto rilevate. C'è un po' di tutto. Iter di formazione delle leggi nell'occhio del ciclone e fra le leggi che vengono messe come dire in discussione sui quali c'è attenzione diciamo così perché per il momento si parla di una relazione quella di sostegno al sistema aeroportuale calabrese a Sacal è stata o meglio a Sacal è stata erogata la somma di 1,5 di un milione e mezzo di euro a titolo di rimborso a spese sostenute per il consolidamento delle rotte aeree e degli aeroporti calabresi e poi si parla anche della riforma dei consorsi di bonifica e le assunzioni nella sanità. cooperativi in campo la coesione sociale riparte dal format ideato a Catanzaro e poi ancora alta tensione tra Mosca e il fronte occidentale Biden attacca Putin che intanto avverte la Francia quante polemiche a Roma quante le vittime e lo stupratore che era ai domiciliari tante polemiche forse più lunga la lista delle vittime di Simone Borgese il 39enne arrestato dalla polizia a Roma per la violenza su una studentessa è già condannato per altri due episodi aeree domiciliari gli investigatori non escludono una serialità almeno non ci sarebbero al momento non ci sarebbero denunce ma il sospetto è forte e se così dovesse essere si tratterebbe di un aggravante davvero molto molto seria e poi il tennis Parigi sfuma il sogno di Siner ieri in 5 set perde contro Alcaraz oggi però c'è la finale nel settore femminile che vede Jasmine Paolini impegnati contro la numero 1 del mondo Sviontek che sembra essere davvero imbattibile soprattutto sulla terra davvero serve un'impresa e poi Jasmine Paolini sarà impegnata anche nella finale del doppio con Sara Errani abbiamo quattro rappresentanti italiani i tre rappresentanti italiani nelle quattro finale di Roland Garros Jasmine Paolini Paolini Errani nel doppio femminile nel doppio maschile Bolelli Vavassori purtroppo manca solamente nel singolare maschile questo è l'abbraccio fra Alcaraz e Sinner bene abbiamo poi un'altra notizia abbastanza interessante che andiamo ad approfondire Abramo ceduto il ramo d'azienda saranno assorbiti solo 200 lavoratori parliamo dell'avvertenza call center che coinvolge mille circa un migliaio di lavoratori solo 200 potrebbero essere assorbiti parliamo appunto dell'Abramo Customer Care un qualcosa questa cessione del ramo d'azienda che non va sicuramente a convincere i sindacati e anche i lavoratori perché per forza di cose solo un quinto circa un quinto dei lavoratori potrebbe essere potrebbe ritrovare il proprio posto di lavoro con questa cessione del ramo d'azienda però cerchiamo di capire meglio i particolari e allora i particolari li andiamo a scoprire nel prossimo servizio che racconta questa vicenda che preoccupa davvero e tante tante famiglie calabresi alle prese con questa vertenza e con una situazione di incertezza ricordiamo ci sono lavoratori sia in provincia di Cosenza lo stabilimento di Montalto sia in provincia di Catanzaro lo stabilimento di Settingiano e sia a Crotone appunto una vicenda che dura diverse settimane e questa ripetiamo potrebbe essere una soluzione solamente per parte dei lavoratori allora ci sono non convince sicuramente i sindacati andiamo a sentire nuovo capitolo della complessa vertenza della Bramo Customer Care c'è lo che è del ministero alla vendita del ramo di azienda che gestisce la commessa team all'accordata composta da Enosio Holding e Steel Telecom lo hanno reso noto i commissari straordinari della Bramo Customer Care Federica Trovato Silvia Boccia e Tiziano Nessi con una comunicazione inoltrata alle organizzazioni sindacali di categoria che seguono la vertenza dell'azienda di call center che tra Crotone Catanzaro e Cosenza lo ricordiamo conta mille dipendenti di questi ne passeranno alla New Co poco più di 200 ossia solo quelli che si occupano della clientela business secondo quanto è reso noto dai commissari infatti Enosio Holding e Steel Telecom tramite l'offerta di acquisto vincolante intendono rilevare la titolarità del contratto afferente al committente team che implica il trasferimento di un numero di lavoratori pari a 90 operatori di call center 14 team leader e 125 collaboratori oltre agli asset aziendali il contratto offerto dalle due aziende acquirenti è quello di un modello di impiego part time di 4 ore giornaliere per i lavoratori dipendenti fatta eccezione per le risorse inquadrate come team leader anche al fine di raggiungere l'obiettivo di massimizzare il numero delle assunzioni pur mantenendo una struttura dei costi sostenibili inoltre Enosio Holding e Steel Telecom hanno proposto l'eliminazione degli incrementi automatici di attribuzione dovuta all'anzianità di servizio a fronte dell'introduzione di un sistema di remunerazione variabile e raggiungimento di obiettivi e gli altri 800 lavoratori beh per loro al momento il futuro è ancora incerto una proposta di acquisto che a quanto pare non convince i sindacati anche perché garantisce appena 229 dipendenti dei 347 impegnati attualmente nella commessa team vedremo cosa accadrà nelle prossime ore bene questa dunque questi particolari di questa vicenda noi ritorniamo sulle pagine di Gazzetta per le altre notizie notizie assolutamente che arrivano dai territori allora iniziamo dal Cosentino riapra il traffico dopo mesi corso Vittoria Emanuele siamo a Cosenza siamo nel centro storico di Cosenza sappiamo bene quanto quest'area sia stata anche al centro di un dibattito purtroppo per incidenti mortali e poi Sandro Principe smentisce non mi candiderò nuovo ospedale della Sibarite degli interventi procedono a sprombattuto consegnati i primi e prefabbricati arriva le rassicurazioni della ditta vedremo insomma come procederanno i lavori di quella che sarà un'infrastruttura assolutamente importante Paola finanze municipali e la minoranza tributi alle stelle bilancio in rosso l'ombra del dissesto le tasse alle stelle la percentuale di riscossione ancora a bassi livelli l'opposizione con la capogruppo Ciodaro attacca la giunta comunale poi Cassano la morta del racket tiene sotto scacco imprese e aziende attentate e intimidazioni in serie soffocate praticamente le attività commerciali della Sibaritide ancora notizie che arrivano queste dall'area centrale della Calabria le province di Catanzaro Crotone Vibo Valencia e il Lamettino Parco Romani dal degrado alla rigenerazione ancora si parla del mega edificio che si trova nella zona sala di Catanzaro gizzeria serata danzante non autorizzata licenza revocata una struttura che è finita sotto i riflettori il ragazzo sequestrato e torturato per la relazione con una donna siamo a Catanzaro orrore nel rione Gagliano e con il rito abbreviati i tre imputati sono stati condannati Crotone impianti sportivi in ogni quartiere la giunta otto nuovi interventi il sindaco voce l'assessore allo sport Luca Bossi hanno annunciato investimenti per 1,6 milioni di euro di fondi del PNRR sull'impiantistica sportiva Sorianello tentato omicidio dei due fratelli pene ridotte in appello dopo il rinvio della Cassazione in appello pene ridotte per 7 imputate l'inchiesta Black Windows ci spostiamo invece adesso a Reggio Calabria nel Reggino case popolari 27 a giudizio e 16 prosciolti il tutto nasce da un'inchiesta da un blitz operato dai carabinieri lo scorso mese di febbraio quindi praticamente quattro mesi fa Polistana ancora a proposito di cronaca giudiziaria stangata ai Longo Versace il Tribunale di Palmi a conclusione del processo libera fortezza ha deciso anche 11 assoluzioni cade l'aggravante per altri reati 20 condanni ma l'accusa di mafia non regge cittanova il vescovo alberti e la vicenda del cimitero alla diocesi beni dell'ex confraternite il decreto vescovile oltre a contraddire la versione del comune potrebbe influire sul processo eternum che riguarda la presunta gestione parallela dei loculi nella gelateria tedesca si riciclava denaro per i clan sanluchesi due fratelli titolari della gelateria di siegen al teatro a processo davanti il tribunale di duisburg e poi il ponte sullo stretto nessuna sospensione ma solo una proroga per le osservazioni il ministro dei trasporti ha concesso una proroga di un mese fino all'8 luglio ai comuni e alle città metropolitane quindi un altro mese per cosa? per presentare osservazione al progetto della stretto di messina negata una sospensione dalla conferenza dei servizi fino a settembre e ovviamente questa è una notizia che sicuramente non è stata presa bene dal PD per esempio che insorge il PD di Villa San Giovanni parere sul progetto vecchio è inutile dunque è stata negata questa sospensione della conferenza dei servizi ma c'è un mese in più per andare a presentare le osservazioni vedete qui abbiamo visto anche l'immagine del ponte il mare il mare significa caldo allora il caldo stavo per dire sta arrivando in realtà il caldo è già arrivato le temperature sono davvero piacevoli magari per chi può trascorrere una giornata al mare meno piacevoli per chi lavora in città però insomma il gran caldo sta arrivando è arrivato e sta arrivando le temperature sono destinate a salire allora è importante anche non farsi trovare impreparati cioè farsi trovare pronti anche a combattere il caldo le raccomandazioni non sono davvero mai troppe andiamo a sentirne qualcuna il gran caldo si fa già sentire ma nulla a confronto con domani e domenica quando le temperature potrebbero sfiorare anche i 35 40 gradi è l'effetto di scipione l'africano l'anticiclone che farà boccheggiare sia sulle coste che nelle aree interne calabresi un caldo che se non affrontato con le giuste precauzioni può causare problemi soprattutto agli anziani nel reparto di geriatria dell'ospedale annunziata di Cosenza già ci sono stati i primi ricoveri per queste ondate di calore cominciano a manifestarsi diciamo le prime le prime sintomatologie cliniche legate al caldo quindi quadri di disidratazione disidratazione ipertonica che però noi anche combattiamo con l'infusione di liquidi e soprattutto per il fatto che gli ambienti sono climatizzati rispetto a come era storicamente una volta negli ospedali quindi questi questi aspetti sono molto più contenuti quali sono quindi i rimedi? è molto importante idratarsi evitare appunto le ore più calde della giornata insomma come sempre è stato detto assumere frutta e verdure soprattutto aumentare il livello di attenzione clinica nei confronti di questi malati per evitare appunto che possano generarsi questi quadri un altro aspetto molto importante per esempio a tutti noto è quello della terapia antipertensiva che d'estate con il caldo va aggiustata va ridotta perché la pressione scende in maniera naturale per il caldo soluzioni che gli over 75 in parte conoscono e rispettano per star meglio in estate cerco di trovare gli ambienti un po' dove ci sono alberi in modo tale che possa con l'ombra proteggermi dai raggi particolari acqua ne bevo quasi un litro e mezzo due litri al giorno quanto caldo fa signora da 1 a 10 10 a 11 acqua frutta gelati da 1 a 10 11 si fa caldo ma il timore che possa anche come abbiamo sentito anche peggiorare sotto un certo punto di vista la situazione vedremo come andrà e allora ci fanno segni che dobbiamo fermarci ovviamente per la nostra consueta pausa riprenderemo fra poco dobbiamo dare un'occhiata alla prima pagina del quotidiano le altre notizie presenti poi le altre prime pagine il web insomma tanti approfondimenti quindi ci troviamo fra pochissimo dopo la pausa la prima parte di prima pagina l'abbiamo aperta parlando delle elezioni e ovviamente aprendi giornali si parla delle elezioni ma c'è chi si sta preparando anche alla maratona elettorale abbiamo detto che la nostra maratona elettorale partirà lunedì mattina alle 7 e chi ci sarà ovviamente protagonista di questa maratona eccola qui Rosalba Baldino l'abbiamo con noi il nostro capo redattore buon pomeriggio protagonista no seguiremo tutti insieme la squadra di TEN ormai collaudata seguirà l'evolversi dello spoglio quindi i risultati prima delle europee e poi chiaramente delle amministrative come sapete sono 132 i comuni interessati al voto in questa tornata elettorale tra l'altro l'unica cosa che posso dire è che stiamo parlato di protagonisti i protagonisti sono sempre coloro i quali verranno eletto i cittadini che vanno a votare noi ci stiamo dividendo i compiti il compito che ci manca praticamente qual è secondo te chi prepara i caffè perché poi abbiamo tutta la giornata da riempire e sappiamo che in alcuni centri molto spesso parlo delle comunali si va avanti si va avanti poi c'è magari il nome del nuovo sindaco e imballano magari per 20 voti e c'è quell'ultima sezione che decide tutto che ha un problema qualunque e si protrae la nostra maratona elettorale è successo tante volte Rosalba è successo tante volte e immagino che succederà ancora di certo seguiremo insomma soprattutto seguiremo tutti i comuni in particolare come sapete in Calabria sono quattro quelli che vanno oltre i 15.000 abitanti quindi sono i più grandi per questa tornata elettorale in cui si vota Vibbo che è l'unico capoluogo di provincia poi Corigliano Rossano Gioia Tauro e Montalto Fugo in ogni città avremo un corrispondente che li segue comunque siamo qui per parlare del nostro telegiornale che andrà in onda tra pochissimo e sicuramente la prima parte è dedicata ai numeri di questa tornata elettorale abbiamo detto 132 i comuni ma si vota anche soprattutto per il rinnovo del Parlamento europeo noi facciamo parte della circoscrizione sud Paolo quindi saremo ben 12 milioni gli aventi diritto che si recheranno alle urne in totale in Italia sono 76 i parlamentari europei che saranno eletti però c'è un rischio che si prospetta che è quello dell'astenzionismo speriamo di no poi abbiamo anche altri argomenti Paolo nel nostro Tg c'è una storia che arriva da Regino da Varapodio è una storia che è legata all'elezione in qualche modo abbiamo fatto vedere qualche immagine in anteprima sì del 71enne che insomma ha strappato i manifesti elettorali è stato denunciato dai carabinieri ma lui lo ha fatto non c'era una matrice politica in questo gesto bensì una matrice legata all'amicizia perché questi manifesti avrebbero coperto altri manifesti in questo caso funebri di un amico di questo 71enne deceduto da poco quindi insomma è venuto fuori questo gesto che è costato caro al nostro al nostro 71enne parleremo poi delle case popolari di Reggio Calabria come sapete c'è stata la sentenza dell'inchiesta che è scattata a febbraio scorso 27 a giudizio e poi a Cosenza oggi tutto tutto è ruotato attorno al tribunale dove c'è stato un appuntamento importante 150 anni dell'avvocatura cosentina un compleanno di quelli insomma che vale la pena festeggiare addirittura con un annullo filatelico e poi Paolo anche lo sport no alla sua importanza perché il Cosenza è in attesa sì in dolce attesa potremmo dire per certi versi non sappiamo se sarà dolce l'attesa però è attesa di qualche nuovo arrivo perché ormai lo sappiamo tutti Gemmi è andato via in direzione Empoli allora si attendono i nomi perché molto probabilmente arriveranno nomi non un solo nome cioè non solo più un direttore sportivo ma un direttore diciamo dell'area tecnica e poi un direttore sportivo direttore dell'area tecnica c'è un nome su tutti del quale si sta parlando Beppe Ursino vedremo da chi potrebbe essere accompagnato Beppe Ursino se sarà lui quando arriverà l'annuncio io credo che arriverà a breve perché? perché c'è da riscattare Tutino settimana prossima là c'è una scadenza che è il 14 o il 15 e poi bisogna comunque programmare la squadra c'è a questo punto anche un punto interrogativo anche se secondo me insomma anche abbastanza ridotto come punto interrogativo la permanenza di Viali che era legato di fatto a Gemmi vorrà delle garanzie da Guarascio insomma ci sono un po' di incroci in casa Cosenza e anche in casa Catanzaro perché anche lì tra Magalini Vivarini vedremo chi resterà e chi andrà via insomma nodi da sciogliere saranno sicuramente nei prossimi giorni continueremo a seguire queste vicende quindi vi diamo appuntamento a tra pochissimo per il telegiornale Paolo aspetta dove vai Rosalba oggi che giorno è oggi che giorno è oggi è oggi è il sabato il sabato è di focus la nostra informazione prosegue no è certo e si sposa sulla cultura è certo perché il sabato è di focus cultura questo è proprio un nostro slogan lo dico nostro perché insieme a Luca Kito curiamo questo spazio che devo dire è abbastanza attenzionato e vi ringraziamo dell'affetto che ci dedicate oggi in focus cultura parleremo intanto vi porteremo a Cosenza nella chiesa di San Domenico e vi anche invitiamo ad andare a vedere quest'opera restaurata che è la Madonna della Febbre vi spieghiamo che cosa è successo ma ripeto vista la bella giornata vi proponiamo proprio di fare una passeggiata anche da tutta la Calabria e venite a Cosenza perché ne vale la pena parleremo poi di un giovane cantante cantautore calabrese Dalen che come dire ha le prese con il nuovo singolo emigrato che è un testo che rispecchia la Calabria lui ci tiene molto all'identità della nostra terra e tra l'altro ha condiviso il palco con Roberto Vecchioni quindi sentirete anche la sua emozione non mancheranno le attese rubriche e poi parleremo anche di un concorso che ha coinvolto i ragazzi delle scuole cittadine delle scuole di Cosenza che si sono cimentati con il cortometraggio e la scrittura creativa quindi insomma seguite Focus Cultura Paolo davvero tanti argomenti allora Rosalba appuntamento come sempre alle 15 oggi pomeriggio dopo il nostro telegiornale grazie Rosalba per essere stata con noi buon proseguimento anche a te il lavoro in vista dall'inizio del nostro telegiornale avevamo lasciato in sospeso ancora la prima pagina del quotidiano abbiamo visto l'apertura perché ci siamo focalizzati sulle aperture dedicate proprio all'apertura dei seggi oggi pomeriggio alle 15 andiamo a vedere anche le altre notizie perché ce ne sono anche altre allora innanzitutto iniziamo da Crotone Scempio di Scifo il reato è prescritto ora chi lo demolirà parliamo della mega piscina che è stata sequestrata videosorveglianza oscurata rubata 25 telecamere a gennaio ne sparirono 11 siamo in questo caso a Cetraro abbiamo già parlato ovviamente di tutti i candidati tutti i sindaci i consiglieri comunali Euro possibili insomma candidati all'Europarlamento e adesso invece andiamo a parlare di trasporti treni e autobus da Amantea a Marzi l'Odissea di un pendolare il racconto all'interno della pagine del quotidiano 100 gradini in memoria di Peppino Impastato a Catanzaro creata la scalinata della legalità dedicata appunto a Peppino Impastato e Reggio si prepara al consiglio aperto un consiglio straordinario sul ponte sullo stretto un consiglio ovviamente aperto al pubblico e poi sempre a Cosenza uno spazio verde per nonni e nipoti un parco inclusivo accessibile dedicato alla promozione del benessere installati giochi e attrezzature cresce l'attesa in vista del taglio del nastro la cordata che rileverà la commessa team parliamo dell'avvertenza Abramo alla quale abbiamo già parlato ieri abbiamo anche raccontato la manifestazione dei tirocinanti pronti a bloccare la regione a proposito di pagina di cultura i vincitori dell'edizione 2024 del premio sila li trovate nelle pagine del quotidiano e poi lo sport che in attesa degli europei è molto incentrato sul tennis Jan Knie Sinner si ferma in semifinale Paolini e Rani conquistano la semifinale quindi doppia finale per Jasmine Paolini sia in singolare che nel doppio e nel doppio maschile come abbiamo detto ci saranno anche Bolelli Vavassori bene stiamo noi spesso raccontiamo appunto pagine di cronaca e pagine che riguardano appunto purtroppo pagine di cronaca che vedono protagonisti anche molto spesso dei giovani la depressione ai tempi della generazione Z è stato questo il titolo di un convegno che si è svolto questa mattina davvero molto interessante che ha visto la partecipazione di diversi psichiatri psicoterapeuti e psicologi a parlare di questo fenomeno che è un fenomeno purtroppo sempre più diffuso le cause degli eccessivi fenomeni di violenza nel mondo giovanile eccessivo utilizzo di droghe quali possono essere alcune volte si parla degli smartphone della lontananza magari delle famiglie formazione enti che non funzionano allora il tema è stato però affrontato a livello soprattutto medico e ce ne parlano alcuni dei relatori ovvero Antonio Ambrosio che è uno psichiatra e Marianna Ardillo che è direttore del dipartimento salute mentale e poi Mafalda Falcone che è direttore facente funzione del reparto di psichiatria di cosenza sentiamo le testimonianze perché vengono fuori davvero tanti argomenti sentiamo diventa necessario assolutamente cominciare a approfondire un po' meglio la situazione di disagio espressa da questa generazione che sostanzialmente si porta avanti con delle manifestazioni molto molto brutte di violenza in particolar modo una grande rabbia l'utilizzo smodato di sostanze e l'intervento da parte dei sanitari soprattutto per quello che concerne i trattamenti sanitari obbligatori dove in prima linea noi vediamo delle situazioni veramente drammatiche pazienti che hanno perso completamente contatto con la realtà e che si trovano comunque in grandissimo disagio nell'affrontare la quotidianità oltre ai pazienti in acuto anche i pazienti ambulatoriali vediamo ma anche alla popolazione generale vediamo che sta evolvendo o meglio involvendo verso una difficoltà di percezione di se stessi e quindi di rapporto di se stessi con gli altri è un problema estremamente allarmante perché questo va a condizionare la futura generazione dirigenziale le famiglie cominciano ad avere consapevolezza del problema in realtà in età un pochettino troppo adulta è difficile anche il rapporto con i genitori importantissimo però è creare una nuova armonia all'interno delle famiglie tenuto conto che non vi è una adeguata attenzione a tutto quello che sta succedendo l'evoluzione sta diventando infatti un problema sociale veramente importante che poi si ripercuote in tutto quello che vediamo nelle testate giornalistiche episodi di violenza la violenza sessuale di genere ovviamente le risse continue la mancanza di rispetto nei riguardi dei professori è una generazione di ragazzi che hanno avuto accesso a un flusso costante di informazioni soprattutto digitali e queste informazioni le hanno portate a riconoscere degli ideali irrealistici e quindi le hanno portate un senso di ansia un senso di vuoto interiore e quindi un potenziale sviluppo di ansia e depressione questo ha portato all'insorgere di alcuni disturbi di cui noi abbiamo riscontrato soprattutto la presenza di ansia e depressione ma anche altri disturbi da uso di sostanze disturbi da uso senza sostanze ossessivi o convulsivi disturbi attenzione l'allarme è che comunque i numeri sono sempre in aumento abbiamo dato molta responsabilità al covid ma il covid non ha fatto altro che come un mare in tempesta riportare quello che era negli abissi speriamo che non abbia portato solo dei triti ma anche qualche perla una visione più ottimistica speriamo che questi ragazzi ricominciano a immaginare il futuro al di là degli smartphone del mondo digitale loro sono ragazzi comunque digitali noi avevamo un altro tipo di cultura dobbiamo trovare un trait d'union per capire come fornire un ambiente sufficientemente buono per riallenarli alla frustrazione ai fallimenti che sembrano tollerare pochissimo sono ragazzi che non tollerano il no ma sono anche ragazzi che non hanno bisogno di un approccio paternalistico come mi diceva proprio un ragazzo ricoverato di 23 anni che diceva io non voglio andare da quel professore perché quello è solo come un paternalista non mi ascolta mi cura a prescindere mi cura su una diagnosi io ho bisogno di parlare e allora se loro hanno bisogno di parlare vogliono riprendersi la parola noi dobbiamo riprendersi la capacità di ascoltare bene facciamo una rapida carrellata a questo punto in cui le pagine interne del quotidiano e poi fino ad arrivare allo sport e poi ci occuperemo del web elezioni pagina interna del quotidiano l'Italia va alle urne con l'incognita stensione anche questo ovviamente è uno dei temi del voto soprattutto diciamo fino a domenica sera si parlerà molto di questa affluenza si possono esprimere fino a tre preferenze spieghiamo però come si possono esprimere o si esprime un'unica preferenza uomo o donna che sia oppure nel caso in cui si dovessero esprimere due o tre preferenze e fino a tre è permesso deve esserci la rappresentanza di entrambi i sessi ovvero si può votare o per un uomo o per una donna nel momento in cui si vota ci sono due preferenze devono essere per forza un uomo o una donna nel momento in cui si esprimono tre preferenze devono essere due uomini e una donna o due donne e un uomo non è possibile votare per due uomini o per due donne fino appunto a un massimo di tre preferenze perché anche su questo ci poteva essere molta confusione queste le liste che sono riportate proprio nella pagina del quotidiano ai nastri di partenza ovviamente un po' un remake del quotidiano così come anche si parla di quelle che sono ai comuni al voto ne abbiamo parlato già a lungo e poi Reggio Calabria invece prepara il consiglio aperto al Reggio non si vota allora si prepara il consiglio aperto per il prossimo 14 giugno in Piazza Italia sul Ponte sullo Stretto e sarà sicuramente un consiglio molto partecipato chiuso gli sportelli per gli espropri oltre 600 i cittadini ricevuti e poi da Amantea a Marzi al ritorno uno di Sea con treni e autobus il racconto di una pendolare che mette proprio in evidenza quelle che sono le difficoltà che si vivono in alcune zone della Calabria una cordata rivela la commessa Timi i temi del lavoro assolutamente raccontati ieri così come anche la protesta dei tirocinanti poi ancora Scifo chi demolirà lo scempio la piscina la mega piscina l'obbligo di ripristinare i luoghi cancellato insieme alle cinque condanne i giudici d'appello riconoscono la lottizzazione abusiva ormai prescritta poi a Staletti i reflui fognari dispersi nell'ambiente temi a carattere ambientale prima di parlare invece di altre due notizie il pericolo di fuga per Maison respinta la richiesta di sostituzione della misura in carcere con i domiciliari ravvisate contraddizioni nella versione dell'attivista la difesa annuncia un'altra istanza e poi parliamo stiamo parlando della donna presunta scafista che è rinchiusa nel carcere di Castrovillari con tutte le contraddizioni del processo sparite alla marina 25 telecamere parliamo di Cetraro ciò che è accaduto a Cetraro e poi Catanzaro spunta il nome di Lovisa come nuovo direttore sportivo con Magalini che sembra essere ormai vicino al Bari quindi l'ex Juve Stabia Lovisa potrebbe arrivare a Catanzaro chi è arrivato a Crotone invece il DS Amodio mentre Guarascio smonta il Cosenza rischio anche per viaio dopo Gemmi lunedì potrebbe arrivare l'annuncio del nuovo direttore tecnico vedremo intanto nel servizio andiamo a riassumere quella che è la situazione con la questione Gemmi e le possibilità appunto di nuovi ingaggi in casa Cosenza andiamo a vedere la Toscana probabilmente è nel suo destino perché dopo Arezzo e Pisa arriva l'Empoli per l'ormai quasi ex direttore sportivo della Cosenza Roberto Gemmi usiamo il quasi perché l'ufficialità non è ancora arrivata ma ciò che è certo è che Gemmi non farà più parte dalla dirigenza cosentina per lui però si sono spalancate le porte della Serie A ma come probabilmente la Toscana è nel suo destino la Serie A sembra essere nel destino di quei direttori passati da Cosenza dopo Meluso Trinchera e Goretti e la volta di Gemmi che approda quindi in una società che ha appena centrato la permanenza nella massima serie ed allora chi arriverà a Cosenza nomi tanti certezze per ora poche il presidente Guarascio però sarebbe lavorando per rafforzare la dirigenza non più una sola figura ma due con compiti specifici diversi ma complementari innanzitutto una sorta di coordinatore dell'area tecnica che possa fare da collante proprio fra la società e chi opera nel settore sportivo una figura che potrebbe essere anche quella di Beppe Ursino che di esperienza ne ha da vendere all'ex crotone potrebbe essere affiancato poi un direttore sportivo giovane in rampa di lancio restano ancora quindi degli interrogativi ma a breve i dubbi dovrebbero trasformarsi in certezze quella del Cosenza non è proprio una situazione analoga ma è molto simile a quella del Catanzaro che però vede complicarsi la vicenda relativa alla permanenza del DS Magalini sembrava una formalità ma l'inserimento di altre squadre come il Bari potrebbe aver complicato la questione anche su questo fronte si attendono sviluppi a breve così come sulla permanenza dell'allenatore Vincenzo Vivarini Bene per chiudere andiamo sul web notizie in tempo reale praticamente partiamo da Repubblica.it una notizia che arriva dal Medio Oriente liberati quattro stagi a Gaza tra loro anche Noa la ragazza simbolo del 7 ottobre Gans cancella il discorso si parla poi ovviamente anche di elezioni europee con il silenzio elettorale che sarebbe stato violato da Salvini Meloni lo aggira urne aperte alle 15 si vota appunto oggi e domani fino alle 23 Borgo e Ignaz i militari potranno intervenire come agenti di polizia si va verso il G7 la gargia dei mercati tassi alti ancora per mesi la destra di governo e gli amici dei narcos Lolo Brigida si mosse per i funerali del Diablo insomma la questione legata al portavoce di Lolo Brigida andiamo adesso a spostarci sul messaggero.it l'esercito israeliano libera quattro stagi tra loro Noah che ha già riabbracciato il padre e c'è ovviamente anche il remake possiamo dire sulle elezioni europee urne aperte alle 15 Meloni ultimo post dal fruttivendolo prima del silenzio elettorale anche Schlein e Salvini sui social scambi di accuse sulla vicenda Natisone chi sono le persone coinvolte in questa tragedia che ha portato la morte di tre persone infine qui cosenza.it voracissimo prolifera per il caldo e si rigenera si è tagliato in due vermo cane un flagello che minaccia anche la Calabria e poi Cosenza ha celebrato il 150esimo anniversario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Italia PD inquietanti rilievi della Corte dei Conti su sacca le consorse di bonifica governo superficiale spregiudicato e le critiche del PD al governo regionale abbiamo parlato di questi rilievi della Corte dei Conti e poi maltrattamenti violenze davanti ai figli e atti persecutori durati diversi anni in carcere finiscono tre persone bene questa è anche l'ultima notizia per oggi noi ci fermiamo qui io vado via voi restate perché c'è il nostro telegiornale poi alle 15 focus cultura ovviamente non ci rivediamo domeni lunedì alle 13.30 ma ci vediamo la mattina dalle 7 per la maratona elettorale per tenervi aggiornati quindi prima pagina non ritorna di fatto lunedì alle 13.30 ma sarà una lunga maratona a partire dalle 7 vedremo anche lì giornali web e tanto altro con tanti ospiti quindi seguiteci intanto buon weekend a tutti a tutti Grazie a tutti.